Benvenuti nella sessione consigli di Massimo Manca, ovviamente parliamo di immobiliare. Stiamo vedendo ormai su tantissimi canali social un'attività prorompente del venduto. Partiamo dal presupposto che è un momento di inerzia, il mercato c'è un cambiamento, probabilmente con l'attivazione dei mutui agevolati, con la garanzia dello Stato, i classici CONSAP, stanno creando un'iniezione di liquidità nel mercato, un po' in tutta Italia, tant'è che si parla di una diminuzione degli immobili in vendita per la prima volta dopo tantissimi anni. Le statistiche parlano di previsioni molto positive per il futuro, ovvio che abbiamo moltissime case ancora da smaltire, purtroppo tutti questi anni di problemi del mercato immobiliare nel poter vendere una casa hanno fatto sì che il mercato saturasse di tanto prodotto. Fatto questo ragionamento, volevo concentrarmi sui tempi di vendita, ovvero la casa è un prodotto che diversamente da tanti altri prodotti come il cellulare o come un qualcosa, anche una macchina se vogliamo, anche se lì bisogna stare un po' più attenti, bisogna fare delle valutazioni prima un pochettino particolari, di particolare attenzione relativamente ovviamente alla documentazione, ai titoli e quant'altro. È normale che tutti i professionisti o privati che vendono immobili questo l'abbiano già fatto, però essendo un mercato che ha cambiato marcia, quindi è entrati in velocità, ci stiamo ritrovando a una diversificazione di barra mercato dell'acquirente, mercato del venditore, ovvero di zone che vendono molto velocemente e zone che vendono meno rapidamente di altre. Quindi diciamo bisogna essenzialmente, il nostro lavoro sta diventando molto chirurgico nel contestualizzare in che mercato si trova il tuo appartamento o la tua casa indipendente. Questo perché? Perché lì andrà costruita la strategia di vendita. Oggi la strategia è la cosa più importante per farti monetizzare il più possibile e per far sì che appunto l'immobile non venga, tra virgolette, venduto a un presto troppo inferiore a quello che magari è il suo reale valore. Quindi cosa succede? Quando il tempo di vendita di un immobile, supponiamo, arriva il professionista da te, fa due foto, lo prende, lo butta all'interno dei social, all'interno di un sito immobiliare, bam! Tempo, cinque giorni, arriva la prima visita e si compra la casa. Perfetto. Ora, mettiamo conto che hai un immobile con tre camere da letto, faccio un'ipotesi, e due bagni. Il valore di questo immobile, supponiamo, di mercato, analizzandolo come avete visto nei precedenti video, potrebbe essere che sono di 200.000 euro. Sto sparando un attimino cifre per rendere semplice il ragionamento, ok? Quindi 200.000 euro. L'agente immobiliare, o privato, da solo, visto che è un mercato che sta andando in pressione, anche tu privatamente potessi pensare di venderti la casa da solo. Dici, ma guarda, in realtà quello che sto vedendo faccio un prezzo di 190.000 euro. Perché? Perché questa informazione è nascosta. È nascosta dove? È nascosta negli atti di compravendita, nell'incontro della domanda-offerta che non è pubblico, cioè è pubblico ma non è pubblicizzato. E quindi vai di pancia a 190.000 euro, potrebbe essere l'idea che hai in mente, tu o il professionista. Quindi cosa succede? L'acquirente che invece ha in questo momento qua un certo tipo di timore di poter perdere il proprio immobile, cosa farà? Come vede, questo immobile in vendita farà un'offerta a 180.000 euro, questo è quello che succede nel mercato reale, d'accordo, in una trattativa, e la casa venduto in dieci giorni. Ok? Questo è quello che è successo. Ora, analizziamo lo scenario numero due. Ok? Vieni da un professionista. Il professionista tempo almeno un paio di settimane, oggi siamo molto indaffarati purtroppo, anzi meglio, e quindi fa una sua analisi di mercato, dove attraverso un'analisi a cui aggancia una strategia di vendita, perché ci deve essere una strategia, altrimenti perché pagare il professionista? Quindi, analisi di mercato e abbiamo un prezzo che ci dice che l'immobile vale 200k, 200.000 euro. La strategia di mercato ci dice che abbiamo un mercato, un mercato in questo momento up, cioè un mercato, una casa in una zona molto richiesta. Perfetto. Allora, cosa succede? Intanto non andiamo a partire certo dai 190.000, per poter chiudere a 180.000. L'obiettivo del professionista attraverso questo tipo di strategia e magari non venderti la casa in 10 giorni, ma portarti 10, 15, 30 persone nella casa, d'accordo, e vendere da i 200.000 euro in su. Ora, stiamo parlando della stessa casa, stiamo parlando della stessa zona, ma il proprietario che si è affidato a un professionista che ha delle caratteristiche di studio del mercato, dei dati, che non punta solo al mero guadagno della provvigione, banalmente è stato il tuo alleato in questo processo e magari ti ha fatto guadagnare 200, supponiamo 5 barra 210.000 euro. Questo per dirti che cosa? Che nell'altra situazione, in realtà, tu non lo sai perché ovviamente non avendo tutte queste informazioni, questi dati ti possono sembrare come se buttati lì, ma in realtà è quello che sta realmente succedendo. E quindi, questa vendita qua, che è stata fatta venduta in, mettiamo, 60 giorni, e questa venduta, quella che abbiamo visto prima, a 180k in 10 giorni, se guardi, in 50 giorni potenzialmente il valore del tuo immobile è sceso dai 20.000 euro, quindi dai 20k ai 30k. Una marea di denaro, una quantità enorme di soldi. Molto spesso mi dicono, ma su via manca 10.000 euro, una differenza che si può sopportare. Certo, guardi, io non so quanto valga per lei il denaro, prenda 10.000 euro dalla tasca, li metta sul tavolo, io prendo l'accendino e li accendiamo, e facciamo un fallo con 10.000 euro. Ecco, questo non è modo di trattare il tuo immobile, non è modo di trattare l'asset, quindi l'investimento più importante che una famiglia italiana ha e possiede per poter poi fare altri tipi di operazioni. L'importante è sempre chiedere al proprio agente immobiliare qual è la tua strategia, qual è la tua analisi. Questo non è il momento di vendere case in 5 giorni, d'accordo, questo è il momento di usare la testa alla strategia, avere un minimo di pazienza, ma trovare un agente immobiliare che è il tuo alleato e spinge il valore della tua casa attraverso l'analisi della strategia a un upmarket, che va a farti guadagnare più soldi. In realtà, anche chi comprerà la tua casa, se sta guardando questo video, quando tra 20 anni venderà il suo immobile da 200, magari vada a 300 o 350k, noi non lo possiamo sapere. Sicuramente l'immobiliare, in questo momento in cui l'inflazione punta verso l'alto, come bene di fuggio, andrà ad arricchire il suo valore di investimento. Non ho mai sentito nessuno che, comprata la casa negli anni 80 o negli anni 90, vendendola oggi, possa poter dire con cognizione di causa Massimo ci ho perso. Ok? Alla prossima, ciao!